buongiorno la nv news di oggi non poteva che non parlare di tor tor per i runner per gli appassionati di montagna è un nome che evoca tutto emozioni sensazioni sfide per chi non conoscesse il mondo dello sport dell'endurance dell'extreme quindi dell'estremo il tor è il tor de géant il tor de géant si svolge in val d'aosta in questi giorni è partito domenica ed è la più dura corsa in montagna di endurance che si svolge al mondo questo è il percorso praticamente viene attraversata tutta la val d'aosta sono 330 chilometri con in realtà 24 mila ma in realtà sono di più saranno almeno 25 mila metri solo delle salite con 25 colli che vedete in questi punti più alti che superano i 2000 metri più alto il collo zona 3.300 i primi in questo momento franco collè in particolare sono già molto avanti sono circa 220 chilometri di strada e credo che questa mattina sia stato dato più o meno dalle zone di champouluc e quindi stia procedendo verso val tournache invece gli ultimi sono più o meno traccogne donne secco per capirci ma vi parlo di questo non perché oggi voglio parlare di sport ma perché anche nei grandi eventi sportivi si può fare sostenibilità e nel tor de géant è stato messo appunto il progetto che si chiama ecolo tor questa è la rivista numero unico della manifestazione e una bella parte è dedicata anche al progetto di sostenibilità che si declina in argomenti diversi certamente quello dei rifiuti dagli approvvigionamenti che sono su tutti i materiali biodegradabili compostabili dell'evento è plastic free tranne l'acqua gassata e qualche bevanda gassata come le bevande come la coca cola che i runner adorano perché è una sferzata di energia ma per il resto tutto laddove non serve ed è superfluo la plastica è stata eliminata un'attentissima raccolta differenziata che viene fatta nelle basi vita con indicazioni multilingue essendoci atleti provenienti da 65 parti del mondo cosa molto interessante gli atleti devono ricaricare i propri smartphone il gps le pile frontali per le notti e i punti ricarica sono alimentati dal 100 per cento da rinnovabile con dei pannelli fotovoltaici una batteria di ricarica che fa da storage e quindi trattiene l'energia e poi con un inverter ci sono altre cose che sono state messe a punto in questa manifestazione la cosa più importante e adesso eccomi qua vengo al mio faccione è che per tutto il percorso per i 330 chilometri ci sono dei volontari che sono denominati normalmente scope che sono quelli che aiutano gli ultimi atleti cercando un po di incoraggiare ad andare avanti o se invece hanno davvero dei problemi a portarli fino al primo punto dove poi possono lasciare il pettorale abbandonare la gara ecco insieme a queste scoppe che sono tipiche di ogni gara di corsa ci sono anche le eco scope io ieri ho avuto la fortuna di fare la mia cinquantina di chilometri con circa 5000 metri di sivello con l'amico enzo la montagna e raccogliamo i rifiuti che vengono abbandonati devo dire dall'esperienza diretta di ieri che fortunatamente i rifiuti abbandonati dagli atleti sono diminuiti e questo è un bel segno l'avevamo già fatto sperimentalmente l'anno scorso quindi probabilmente il segnale è passato ma questo è un effetto secondario non indifferente di manifestazioni di questo tipo le eco scope puliscono anche il resto del territorio e quindi un servizio che viene fatto alla comunità attraverso una gara gara pulita sport pulito per un ambiente pulito vi ringrazio video appuntamento domani ciao